A proposito di referendum, autonomia differenziata, oggi sembra che il Comitato Cassese sarà indirizzato verso una definizione dell'app differenziata, alla fine in base ai territori, questo era un po' il pericolo che voi denunciavate da tempo? Sì, assolutamente, perché la proposta Cassese, che quando la leggeremo, come abbiamo avuto notizie, sarà quella di cui tutti parlano, sarà un fatto estremamente grave, perché evidenzierà come si sta determinando la secessione attraverso questa autonomia differenziata, un'Italia di serie A, B e C a secondo proprio della differenziazione del costo della vita e tante altre questioni, ma il punto è ma non siamo cittadini italiani e dovremmo avere tutti gli stessi diritti, questo no, è uno dei motivi per cui domani presenteremo oltre un milione di firme in Cassazione. E' tornata l'idea della leva obbligatoria, cosa ne pensa? Io sono assolutamente contrario alla leva obbligatoria, penso invece che noi abbiamo bisogno di servizi civili, di fare in modo che parte della nostra vita sia dedicata alla cooperazione civile, al servizio civile, per fare i volontari contro il discesso dello geologico, nell'assistenza agli anziani, visto che questo Paese e questo Governo sta smantellando il welfare e abbiamo anziani che sono abbandonati a se stessi, non abbiamo bisogno della leva obbligatoria, abbiamo bisogno di servizio civile.